E' il primo venerdì del mese. E quindi? Lo vedrà? Lo vedrà con i suoi occhi? E' il maestro. Ci delizia con la sua arte ogni primo venerdì del mese alle ore 10 e un quarto precise. Violinista, dico quando ho suonato. Sembravate assenti, sospesi come in un libro. Una roba mai vista. Voglio sapere che effetto ti fa. Ottavio Malatesta, un nome che faceva tremare i polsi. E' qui per gratificarmi o mi devo preoccupare? Cos'è che non va al di là della caviglia? Ottavio! Ottavio! Sì, io voglio sapere qual è il segreto della tua musica. Perché ha un effetto così forte, così ipnotico sulle persone? Qui la porta è sempre aperta, la luce è sempre accesa. Aggiungi un posto a tavola. Da ragazza suonavo per sconfiggere la noia, poi per lenire il dolore. Non cercarmi più. Tutti mi chiedono perché la mia musica è così speciale. Perché quando suono sento che tutto non è successo in vano. Domani suonerai? Suonerò per lei come sempre. Sono seduto i nostri spettatori. Grazie per lei. Grazie a tutti.